Dobbiamo fare quello che praticamente è un invito più che altro alla prossima infiorata del 2018. È un momento un po' particolare perché noi che abbiamo lavorato tantissimo per crearlo viene un po' di magone. Una riscappatura e un po' della tribù ce l'aveva detto già prima. Adesso si tratta di andare avanti con lo spagliamento, non è altro che la distruzione purtroppo di questi capolavori e sarà una distruzione piacevolissima comunque che sarà fatta dai bambini, da tutti i ragazzi e i bambini che sono qui presenti a Torio Nuova. Però quello che ora vi raccomando, vi diremo delle indicazioni su come dobbiamo consultarci durante lo spagliamento. Perché l'anno scorso l'abbiamo fatta a Piazza Italia, era molto più piccola, infiorata e già lì abbiamo avuto qualche problema con i bambini che andando avanti e indietro hanno qualche bambino, non c'è fatto niente di che, però magari in un'infiorata così grande come questa potrebbe anche se c'è una manca andare avanti e indietro rischiamo che i bambini si possano. Grazie! 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 Termina qui la seconda edizione di quella che è stata la più bella e infiorata nella Calabria. Siamo a Staudi ad ora e oggi è il 4 giugno 2017, da parte che non so come tutto, ma arriverete ancora a qualche istanza e perché tra poco ci concluderanno i giorni d'attiviso. Grazie! 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 Siamo a chiamare la mamma di questa qui, la mamma di questa perfetta, si chiama Rosa e la mamma, a te doi? Viva la Croca! 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 Grazie! No, 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 no Tra la salva, sui stanchi, padri di sopia, i bambini. Un po' a preghi, un po' a preghi, un po' a preghi. 喂, mentio, mentio, credo, quasi un reanno. Colatele a mettere il sangue, non ne ricevo soli. Colatele a mettere il sangue, non ne ricevo soli. Colatele a mettere il sangue, non ne ricevo soli. E c'è la cura, sulla e la parte andata. Un'opata di sconale, le panno, in giro in giro. Un'opata di sconale, il sangue, il sangue, il sangue, il sangue, il sangue, il sangue. a a a a a a a E avallati avallati, dimmi scherzi mani dati e se non ballare vuoi non mi continui al bisogno e se non ballare un frito giro di cuore un activities Shou, 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 quanto vi fai ragazzi svolto? Shou, 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 quanto vi fai ragazzi Viva la nostra ragazza! Viva i nostri ragazzi! Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì.